Mister, l'inizio non è stato bello, bisogna subito rialzare la testa anche a permettere di buon umore la piazza, che è sempre una cosa positiva quando si ha la piazza dalla propria parte. Guarda, io mi aspetto una grande risposta dalla mia squadra, prima sotto profilo caratteriale, poi sul campo. Siamo tutti rimasti dispiaciuti per quello che è successo l'altra partita, quando nessuno si aspettava un esordio così, ma l'unica possibilità che abbiamo è di dare una grande risposta prima caratteriale, con gli attributi, l'ho detto anche loro, non abbiamo altre scelte. Non ci sono moduli, non ci sono situazioni tattiche, quando devi entrare in campo e dare tutto, ma solo carattere e attributi. Quindi questo è un po' quello che noi prima della partita dobbiamo fare, prepararci bene. Poi il resto viene la partita contro il Carpi, che è una partita difficile, l'ho visto giocare contro la Ternana, hanno fatto una buonissima partita, una squadra aggressiva, messa bene in campo, però io guardo in casa mia e ripeto, deve essere una partita prima a partire dagli attributi, poi calcio giocato. Da una neopromossa all'altra, peraltro, quindi due punti di domanda nelle prime due partite, nel senso che lei li avrà senz'altro studiati, però magari venendo da un altro campionato è un po' più difficile. Ma è difficile perché all'inizio di campionato è sempre contro le squadre che magari sono neopromosse, è un'incognita, hanno tanto entusiasmo, hanno giocatori che non hanno magari mai fatto la categoria, quindi si mettono in mostra, danno tutto, è per quello che io quando parlo di attributi, parlo di attributi in quel senso, cioè sapere chi abbiamo di fronte e chi abbiamo di fronte gente che ha fame. Allo stesso tempo noi dobbiamo avere più fame, perché il tempo passa, il campionato è iniziato, bisogna cercare di entrare subito in clima campionato, sapere che i punti cominciano a diventare già pesanti, perché l'adattamento dalla fase di preparazione al campionato probabilmente a volte lascia qualcosa. Noi ne abbiamo fatto le spese, però insomma dobbiamo avere una squadra di carattere che tira fuori tutto, che parte da un'altra parte.